...importantissimo, il sindaco del Comune che ha dato i Natali al primo procuratore generale della Corte dei Conti del Regno, speriamo di uno sbagliare, Montenero D'Urgo, Giuseppe De Tomasis, era il prescetto di Gioacchino Murà per mettere sotto ordine i Conti del Regno ed è stato un intellettuale del suo Comune che ha dato un calcio definitivo al feudalesimo, poiché grazie all'iniziativa di questo grande intellettuale, quando vedo lui, io ripeto, si passò dal concetto di possesso al concetto di proprietà, dal possesso comunità e la proprietà, è presente l'assessore all'agricoltura, al cicloturismo e alla sanenza degli ambienti che consentono l'economia rurale, Dino Pelli che è saputo con molto affetto, ci sono due presidenti di Commissione Consigliari che vi ho presentato, il presidente Guaducci e Olivieri, c'è il capo delle opere pubbliche della regione, l'ingegnere primavera, primavera, il vice sindaco di Pescara che sta dall'altra parte, il presidente del Lancia, molti amministratori locali, vediamo chi vedo, il presidente del Consiglio Polone di Pescara, l'assessore all'agricoltura, c'è la comunità, la comunità delle estensioni territoriali che abbiamo invitato, naturalmente ciascuno dei presenti ha un appunto di interesse sulle questioni aperte, di cui parleremo oggi con l'immediatezza e l'inceperatrice. Io ringrazio molto il presidente dell'Anna, l'ingegnere Armani, sono i più stretti collaboratori che sono venuti qui, noi abbiamo delle questioni taglienti da affrontare. La prima questione sul fronte della regione di Pescara che deve raccogliere le emergenze del Terramano, del pescaresi e del Chetino, secondo me si chiama con l'espressione che adesso è un punto. Il primo tema è il completamento della terra umana, il quarto volto della terra umana. Adesso non riconosco gli amministratori dell'ente provincia di Terramano, non so se ci sono, ci sono. Vabbè, c'erano Fini che li rappresentano tutti in termini di pontificato. La terra umana è oggetto di aspettativa, l'ingegnere Armani, da una trentina d'anni. Ogni quinquennio si fa un piccolo passato. Finalmente abbiamo il dossier tecnico, progettuale, amministrativo con una prenotazione di copertura finanziaria che ho visto dei sindaci del Terramano, il sindaco di Mineto e il sindaco di Mosciaro Santaglio. Finalmente abbiamo anche la copertura finanziaria collocata nelle appaltabilità che lui, l'ingegnere Armani, ci può confermare. Che cos'è che noi vogliamo che emerga, anche a seguito del protocollo che noi firmeremo? Noi vogliamo che emerga la conferma, la durevolezza di un impianto preparatorio, per il quale abbiamo lavorato in passato, per il quale i progettisti, le amministrazioni convergenti e concorrenti, che si sono fatti carico anche di una condivisione di concorsi. La Terramo Mare rappresenta la congiunzione di questa città, Terramo, che in passato ha dato tanto alla nostra regione, rispetto a quel giacimento di relazioni e opportunità economiche che è il mare al mare. Oggi la Terramo Mare ci permette anche di riprogrammare la presenza sanitaria su un territorio Terramo. Se noi possiamo contare sulla conchiutenza della Terramo Mare, possiamo anche ripensare la dislocazione delle strutture sanitarie del Terramo. Voi sapete che lungo la consistenza territoriale del Terramo ci sono più presidi ospedali. Non voglio che la notizia diventi questa, ma se noi affrontiamo il tema dei luoti infrastrutturali viabili, possiamo essere anche moderni nel concettire la dislocazione dei presidi ospedali. È chiaro oggi con lo spezzettamento che caratterizza il patrimonio territoriale corzese, dobbiamo replicare la moltitudine di presidi che erano la nostra presenza di domande individuali. La seconda priorità, lo dico alla platea degli amministratori presenti, non concede l'ANAS del Terramo. La seconda priorità è la viabilità provinciale serpente alla Valfino, dove siamo arrivati in una condizione di praticabilità solo per le lucercole e per i cavalli. Tale è il livello di rottura della situazione viare. L'altro giorno Claudio De Vincenti mi ha dato la notizia che ci dà 133 milioni di euro come regione in transizione, 100 milioni di danico alle provincie, non per fare le feste di compleanno, ma per fare la rimessa in sicurezza del patrimonio viaglio delle quattro provincie, sapendo che la situazione più grande è la provincia di Chieti al primo posto, la situazione appena dopo Chieti, Terramo, poi c'è Pescara, poi c'è Lampo. I 100 milioni di divideremo secondo un coefficiente che aderisce alla gravità delle situazioni che vi tratti. Quindi l'Avalfino diventerà avversario di questa azione straordinaria, al pari dell'Avalfino e dei punti di problemi che abbiamo nella zona vestina per quanto riguarda la provincia di Pescara. La seconda priorità infrastrutturale, stradale, statale che la Bruzzo ha con ANAS riguarda il Chietino, e cioè, nell'ordine, il sistema diario che da guardia greve vuole fare è un tema che non è stato mai affrontato con il dovuto rigore, se no nel 97 era presente Scalfo, che c'era dal giurino, firmando una convenzione tra l'ANAS e la provincia di Chieti e quella convenzione credo che abbia prodotto una consistenza progettuale. Io mi ricordo ci sono relazioni elevatissime, allora che ho visto i laurei pubblici di Chieti affinché quel progetto trovasse una cultura finanziaria. Noi questa la mettiamo tra gli obiettivi di campo del nuovo corso della collaborazione tra Regione e ANAS. Poi c'è, al terzo posto, il tema rilevante delle varianti agli abitati di Francavilla verso Ortona, Vasto e San San. Presidente, qui mi prendo la cattedra, per adesso ho parlato di buon'educazione, adesso mi prendo la cattedra. In Italia noi dobbiamo ricominciare a fare i programmi di investimenti in ragione degli incidenti. Il numero di incidenti sulla dorsale adrialtica nella direzione Fossa-Cessia, San Mito-Marina, andando verso Vasto, è una delle urte più alte d'Italia. Adesso vi faccio carico di dire una cosa che mia madre mi ha fatto promette di non dire mai più. Non emergono gli incidenti sia sull'asse stradale-statale che sull'autostrada perché c'è un clima di eccessiva amicalità col personale della polizia stradale. C'è una amicalità eccessiva che non rubrica in maniera documentale il numero degli incidenti che si rilevano sia sulla strada statale che sull'autostrada. Per quanto riguarda l'autostrada io non prevedo progetti, nel senso che non prevedo atteggiamenti iniziali da parte del progetto della strada e un atteggiamento di eccessiva generosità di quel corte. Invece per quanto riguarda l'autostrada io prevedo che ci sia una conclusione da scuizia. Io mi ricordo, per aver studiato i sacri testi degli investimenti pubblici redatti da Mani in Carabba, che il più bravo consigliere della corte dei conti che ancora vive e anima la rivista del mezzogiorno del mulino, dice che gli investimenti sulle strade e sulle infrastrutture dovrebbero essere nutriti prevalentemente dall'incidentalità. Allora io dico all'ingegnere Armani che conosciamo e ringraziamo per quello che ha già fatto benissimo a terra. Lui è uno dei tre che ha fatto i miraggi in Italia con terra, per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale dell'energia elettrica che poi è arrivata a destinazione. Ed è per questo che è arrivato il naso. Quindi sei libero, hai il giusto tasso di estraneità nelle pratiche precedenti, aiutaci a fare in modo che gli incidenti vengano rilevati. Una volta assomigliava proprio alla battuta dei barbieri, una delegazione di uomini di Stato andava a fare sopra l'uomo per la Fondo Maldessandolo. Siamo rimasti incastrati in un punto della realtà autostradale in ragione del fatto che quell'autostrada odia le manutenzioni. E li fa tutti in un momento quando magari si mettono d'accordo gli ufficiali di Stato andava a fare così. Ma era una cosa che c'era dal sottosegurale della presenza del Consiglio dei Ministri, a capo dell'Ansa, a capo della vigilanza autostradale. Eravamo lì intubati, nessuno aveva il coraggio di dire qualcosa. Proprio a dimostrazione della pornografia e della comunità. Questa realtà stradale-statale, denominata strada statale 16, è stata l'oggetto di 112 interrogazioni parlamentarie. Naturalmente le interrogazioni parlamentarie d'Italia, come diceva Silvio Spaventa di Bomba, hanno un problema. Che quelle che si fanno trovano come risponditori coloro i quali hanno causato la cosa per cui si fa l'interrogazione. Non ce l'ha carezzata. E quindi le interrogazioni non hanno mai risposta a me. Io mi sto facendo carico con uno dei più bravi procuratori della Repubblica d'Italia, il dottor Giampiero Vistoglio, di ricostruire la quantità degli incidenti. In maniera tale che venga, diciamo, procedimentalizzato il dato degli incidenti. Per vedere che cos'è che può meritare un numero così elevato di incidenti. C'è un lavoro importante che hanno fatto i comuni, il comune di Vasto, di San Salvo. C'è un lavoro in cammino che sta facendo il comune di Ortona, per fare in modo che quel sistema riusca un assetto di progettazione all'altezza. L'ufficio progettazione dell'Anspa, uno straordinario lavoro di accompagnamento. I consigli comunali si sono pronunciati, addirittura si sono pronunciati in linea con piani strategici redatti dai istitutivi comuni. Il compartimento ha fatto un lavoro importante, diciamo, proprio direttorio da questo punto di vista. Noi vi chiediamo di portare alla maturità questo possiede progettuale perché io ne voglio fare una battaglia anche per il patto che Palazzo Chigi firmerà con la Regione. Io penso che quando una strada toglie la vita di una persona non è soltanto un incidente, non è un affare di assicurazione. È una questione di una gravità in ambita perché, come ci ricordava una grande tradizione di ministri dei lavori pubblici, quando questi non erano casuali, l'Italia è l'unico paese che garantisce la circolazione stradale in sicurezza. L'Italia non scrive, noi siamo il paese che garantisce la circolazione con l'opportunità per l'economia. Garantiamo la circolazione in sicurezza. Cioè, chi parte deve tornare. L'altra priorità che io rilevo, sto parlando a braccio, non guardando neanche via pubblica, ma non preparato per quanto sento questi argomenti, L'altra priorità che io rilevo come fortemente impegnativa per quanto riguarda il rapporto ANAS-Regione è quella che sta per pervenire a conclusione, grazie a un lavoro congiunto, ed è la Fondo Valle Sante. Ne parlo al quarto posto, non perché meno di quanto posto, perché è la prima di priorità. Però qui abbiamo già fatto, nel senso che le risorse finanziarie sono state stabilite, il progetto c'è per la parte di maturità che occorre per scegliere il contraente e finalmente, da partire di, anche il totale dei pareti, nonostante l'atteggiamento irresponsabile del sovraindicente nuovo venuto in abruzzo, per il quale, prodotto formale, richiesta di ripensamento al ministro, perché non ci può essere un funzionario servitore dello Stato che gioca a punto. L'ho detto al ministro Franceschini, l'ho detto al sottosegretario della Presidenza, per avere il pareti favorevole hanno dovuto invocare l'istituto dell'avocazione. Dopo l'avocazione è uscito il pareti, quindi abbiamo un sistema bianco, oggetto di progetto che ha avuto due pareti, uno estorto e un altro prodotto in autonomia. La Fondo Valle Sancro dovrebbe essere oggetto di procedura di gara, poi pubblicitarà conferma l'ingegneria, di qui ai prossimi giorni, non mi permetto di dire quale perché è, diciamo, in lavorazione puntuale. Lungo la Fondo Valle Sancro si realizza la più parte del PIL a Bussese, come ci dice tutto il sistema dell'automotivo della Bussese. Lungo la Fondo Valle Sancro c'è la vergogna del PIL a Bussese, che come mi dice il Vice Presidente della provincia di Chiedi, non è la più grave di una questione, però è una questione, perché è una strada che vuole attrarre investimenti di giapponesi, americani, non so di dove ha, altro anche della Germania, non può avere saliscenti del medioevo di quella natura, perché ci fu un errore 40 anni fa e ci si vergognò a rimettere in mano. Quello è un errore, perché venne sbagliato il signo di quel tratto di condotta. Qui ci sono dei realizzatori molto bravi che potrebbero essere molto più impacabili di me. C'è un progetto che venne a suo tempo concordato su convenzione tra ANIS e comunità montana. Quel progetto aveva delle larghezze finanziarie eccessive. Il progettista ha ripensato le dimensioni, le esigenze finanziarie, la soluzione tecnica di quella questione rilevata e assunta, troviamo una maniera per portarla a produzione. In un quadro di tempi, in un quadro di tempi, ci deve vivere tutti responsabilizzati. Me per primo. Io non voglio andare a Roma a chiedere incarichi politici, voglio andare a Roma a chiedere copertura finanziaria per gli investimenti che servono dalla Germania. E poi esiste la questione concernente il pescarese. Mi pare di avere detto certi minuti, sì. Poi ci sono due questioni concernenti il pescarese. La prima questione, ingegnere Armani, qui mi colloco al livello del Rettore dell'Orestea Cattolica, è l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara. L'asse attrezzato nasce per l'intelligenza di un ministro della Repubblica, di nome Remo Gaspari, per fare in modo che due città si volessero in collaborazione, non in conflitto. Chiedi il pescare. Tra l'altro, se avventi un territorio magico per densità demografica, voglia di investire delle imprese, lui concepì l'asse attrezzato che per un italiano scorrevole avrebbe dovuto avere come nome asse attrezzato, che è un asse che attrezza un rettangolo. Tant'è che venti anni dopo Gaetano Fontana, dal Dignoter, provò una precisazione di Citurani. La critica che Fontana si occupava soltanto di precisazioni di Citurani. Il suo grande sforzo fu di passare da asse attrezzato a asse attrezzato. Questo asse doveva seguire il porto di Pescara e poi il porto di Ortona. Questo asse si è fermato prima del porto di Pescara e molto prima del porto di Ortona. Sul porto di Ortona si è fatto un lavoro con la variante di Franca Milla, quella di cui è la domanda di oggi del giornalista riguardante il perché si attrava. E poi c'è stata la questione dell'allungamento fino al porto di Pescara. Il comune di Pescara, in convenzione, in lottempore, si è fatto carico di prefigurare una soluzione. Questa soluzione so che è stata istruita anche favorevolmente. Abbiamo anche un numero finanziario corrente per portare al porto questa infrastruttura che prende su di sé un grande numero di utenti. Ogni anno questo asse porta con sé un numero rilevantissimo di utenti. Che se fosse il numero ripetuto per estensione dell'autostrada Pescara-Roma non ci sarebbero le occhiaie che a volte caratterizzano gli attuali amministratori dell'autostrada Pescara-Roma. Che il numero degli utenti della Chiedi Pescara ha si apprezzato. E' straordinario. Tant'è che ha fatto venire in mente anche ai sacerdoti di Santa Romana Chiesa di aprire un'area di servizio che è di benzina per l'altissimo numero di utenti che ci sono su questa strada. Noi la dobbiamo portare al porto perché altrimenti per andare a porto si usa la viabilità comunale. Questa è una città che non odia nessuno. Non ha odiato neanche i dir che vanno a porto. Ma non può essere che una viabilità comunale si sostituisca ad una viabilità di rango strutturale. L'altra grande questione che noi abbiamo, ingegnere, e io non dovrei parlarne perché sono rimasto involontariamente infilzato da un dossier tendenzialmente giudiziario riguardante la Loretumena. E' una infrastruttura che lega la città di Pescara al Parco del Gran Sasso per il quale una questione di perizie geologiche ha generato una superfetazione necessitata di accertamento di verità. A me è stato contestato per avere prodotto interessamento nel 99 l'avere corroborato una perizia geologica della quale non sapevo e non so nulla, ma lo sto certificando davanti alle meritorie e alle autorità giudiziarie. Dico meritorie e alle autorità giudiziarie. Detto questo, ma non mi puoi come dire questo, di segnalare l'assoluto bisogno che ha la Regione Abruzzo di risolvere il problema del collegamento Pescara-Gran Sasso attraverso l'accesso pescaresa. C'è una situazione, una soluzione progettuale che deve essere ripensata, nel senso di riammodernata, poiché da quando è stata pensata quella soluzione sono passati 14 anni. C'è anche un aggiornamento dei pareri, perché lì esiste una riserva naturale. Qui è presente uno stimato assessore vice sindaco di Penne, che conosce la più parte del dossier riferita alla zona di riserva naturale. C'è anche il sindaco di Loreto, perché i due sindaci, diciamo, titolari del dossier alcuni ministri urbanistico sono quello di Loreto e quello di Penne. Dobbiamo trovare una soluzione anche con quello, sapendo che la soluzione deve essere economicamente sostenibile, ambientalmente sostenibile e anche contrattualisticamente sostenibile, perché c'è un tema anche di contrattualistica. Io non aggiungo altro, se non rivelare a questo pubblico di addetto ai lavori, che abbiamo preparato un protocollo d'intesa dove si rende certo che sulle questioni non ci lavora solo l'ANIS. Ci lavora l'ANIS e il sistema degli indiocari. Io mi sono vergognato una sola volta dei rapporti con l'ANIS quando un comune, nell'Aquila cambiava pareri ogni settimana, con i telegrami. Non possiamo arrivare a questo livello di compulsività di opinioni sulle infrastrutture. Sapendo che le infrastrutture devono durare 200 anni, saluto e ringrazio il Presidente della provincia di Terno, al quale dico che abbiamo già affrontato i temi del Terramano, è arrivato il Presidente della programmazione economica della regione dell'assessore Silvio Paolucci. Io mi fermo qui pensando di avere detto tutto. Prima di far parlare il Presidente dell'ANIS vorrei che dicesse una parola essenziale il Presidente dell'ANIS, una parola essenziale scegliendo lui l'abito del Sindaco di Vasto o dell'ANIS regionale. La cosa che però ti infongo è il contrario dei tempi che utilizzo io, di essere essenziale. E poi se c'è una figura delle province presenti qui che ritengo magari di connotare meglio le questioni. C'è il Commissario del Consorzio Industriale che mi guarda, dopo dirò una parola anche sugli esplome del Consorzio Industriale, sapendo che il Presidente mi ha puntato che mi farà conoscere dal punto di vista giuridico dell'ANIS. Allora, per ringraziare il Presidente D'Alfonso per questa opportunità non al Sindaco di Vasto ma ai comuni. Il modo giusto per affrontare i problemi è proprio questo, sempre risunire intorno ai tavoli, tutte le parti interessanti per il contributo di tutte le parti alla soluzione di tutti. È chiaro che l'occasione è importante per ringraziare anche l'ANIS che, devo dire, qui parla la Sindaco di Vasto, è impegnato in un grande progetto del territorio. Mi riferisco soprattutto al potenziamento di quella che è la strada statale 16 dall'uscita dell'autostrada fino all'area industriale di Vasto. Un impegno per diversi milioni che, ci auguriamo, possa portare in tempi certi al superamento di alcuni problemi che ci sono stati e quindi al riconsegnare questo lavoro. Quindi grazie per questo impegno. Io non devo aggiungere molto, il Presidente della Regione un po' attracciato, come è bravo, ma anche fa, le emergenze che noi abbiamo in intervento. Queste emergenze non possono più essere regolate. Parlavo delle varianze strade 16 sulla costa. Credo che i tratti che sono stati segnalati sono gli ultimi tratti che sono rimasti. Quindi mettere a rete le varianti di tutti i centri costieri è un obiettivo fondamentale. Sicuramente l'ANIS da tempo impegnato in questo percorso e se riusciamo a dare a termine il ciclo che viene oggi delineato dal Presidente della Regione, credo che sarebbe un grande servizio a questa nostra produttività. Parlando poi del tratto dell'Astro-Sansal, il tratto che completare quel tratto significa anche la possibilità che viene data di collegarci poi alle varianti che sono state fatte dal vicino Polista e che hanno bisogno naturalmente di queste varianti basso-Sansal per il completamento dell'intero sistema. Quindi io non posso se non essere grato per favore ancora a chi ha voluto questo percorso e ovviamente come Presidente del Lancio non posso se non sollecitare subito, oltre che le progettazioni che sono in molte parti a un punto la fase più importante che è poi quella del finanziamento e quindi dell'esecuzione dei lavori. Grazie Presidente, grazie ANSI. Se c'è qualche Presidente di Provincia che richiede di corroborare la mia illustrazione che è una grande, diciamo, competitiva. Guardate che c'è l'Italia anche il pensiero... Allora, sono stato molto concentrato sul terramano. Lui è un bravo penalista che fa il percorso. È, diciamo, un'esaltazione forse non sembrare superflua, ma in un momento in cui c'è una grande ristrutturazione del nostro territorio d'Italia, è un accorpamento sostanzialmente dei servizi. di tanti servizi è evidente che uno sforzo particolare sulle infrastrutture, sulla possibilità di collegare servizi, io che sono più sotto casa, alle popolazioni necessarie. Quindi, da questo punto di vista, io rappresento un territorio che da un po' di tempo è scogliato di servizi. Adesso l'ultima è quella, diciamo, dell'eliminazione della Prefettura per un accorpamento con l'Aquila e il pericolo, così, che segua quegli spazi di quest'ultima, la Camera di Converso. Insomma, è evidente che la situazione del genere è una viabilità moderna e dignitosa se necessaria. la mia esortazione è questa, delle opere che tu ci hai dato, in provincia di Verano si parla da tantissimi anni. Quindi, velocità, celerità, quello che si può fare, mi rendo conto che magari tutto in breve non è possibile, però cominciare a dare risposte concrete, altrimenti poi continuo ancora a passare come quella che fa in un cerco, ovvero, diciamo, incontro di domenica, se ne portare nulla sul territorio. Io voglio aggiungere solo questo e poi passo la mano all'ingegnere Armandini. Stamattina siamo stati all'Aquila. Sull'allungamento realizzativo da Amatrice all'Aquila e poi la variante cosiddetta sud dell'Aquila, le opinioni sono state talmente plurali e cangianti che i soldi che ci stanno lì più volte hanno rischiato di essere tolti e destinati altrove, dove l'altrove non è l'Abruzzo ma è un altrove molto più lontano. Allora è fondamentale che il sistema territoriale concordi su, uno, qual è la priorità? Due, stabilita la priorità qual è il bracciato migliore. Per la TAV, un grande conoscitore dell'Italia propose di fare il comitato dei nodi, vedete la deriva, il comitato dei nodi avrebbe evitato che nascesse sulla TAV quel livello di odio, perché lui voleva discutere, prima di cantierare, dov'è che ci devono stare i nodi di questa grande infrastruttura. Molte volte per un sistema viare di questo tipo il nodo è l'accesso, la complanare occorrente, lo svincolo. Su questo il dibattito politico non è stato mai all'altezza della complessità e della tecnicalità, perché arriva sempre un minuto dopo dei tempi che non si è venuto. Noi abbiamo fatto un lavoro, del quale abbiamo pieno abbiamo stabilito le priorità. Sulla fondo Valle Sangro non c'è stato uno di Cortino, che è uno dei paesi più piccoli della provincia di Teramo, che non abbia capito che per l'albozzo quella era la priorità, tant'è che abbiamo trovato i soldi e i parelli. Adesso, sul quarto lotto della Terra Romana è indubbiamente quella priorità. Per la potenza turistica che il Terramano per tutta la regione, che i numeri turisti, 2 milioni di presenze in più, riguardanti l'arrivo dei turisti, chiama in causa il Terramano come costa e la costa dei Trabocchi. E la costa dei Trabocchi è servita proprio da quella statale 16 che ci dà un primo. Concludo con un anno d'azione. Noi su tutte queste partite firmeremo, che adesso in termini essenziali vi sintetizzo, le parti, cioè la regione e l'ANIS, sottoscrivono il presente protocollo per realizzare le seguenti opere infrastrutturali strategiche. La dorsale a Pedini, Cariechi, L'Aquila, Navelli e Bossi, concernendo con questo titolo il completamento del corridoio adriatico, dorsale statale interna, Amatrice, Montereale, L'Aquila, Navelli, poiché è inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo approvata con delibera del 2001. Sui tracciati però c'è stato conflitto. Collegamento veloce L'Aquila-Pescara, SS17. Sono in fase di progettazione i seguenti interventi. Lavori di collegamento tra la SS Intanti e la località Cupito con la SS17 e la località Centi-Colella. Innesto a variante sud, variante sud ad abitato dell'Aquila, adeguamento del tratto San Gregorio-San Rio delle Camere dal chilometro 45 più 000 al chilometro 58 più 000. Ultimazione della Teramo Mare, SS80, tratta stradale Teramo Mare, variante alla SS80 dall'A14 di Mosciano-Sant'Angelo alla SS16 Giuliano-Varguardo. Pede Montana-Gruzzo-Marco, che tratta Guardia Grele, Valdisangolo, Fara-San Battini. Quello che vi ho detto prima, ci sono le distinte che riguardano appunto le chilometri che poi SS16, variante di abitati di Vasto Sanzato, Francavilla-Almare e Ortona-Montesilvano-Silvi. Collegamento, lo detto all'ultimo penne, secondo quella distinta che vi ho detto prima di guardare l'accesso Pescareisi al Gran Sasso, prolungamento dell'assi attrezzato con il porto di Pescara. L'intervento consiste nel prolungamento dell'assi attrezzato del porto di Pescara, riclassificato tra la Stadale e la Stadale, secondo un decreto legislativo che consentì questa riclassifica. Poi c'è la 652 di Fondo Valle Sangio, tratto dalla stazione di Camberate, dalla stazione di Civita Lumarella, secondo quella maturità procedimentale che vi ho detto. Le parti si impegnano a costituire un tavolo permanente per velocizzare la realizzazione dei progetti e per coordinare le progetti. E mi fermo. Guardate che questo è stato un elemento che non ha mai trovato Alberto nello stile di lavoro. Mai successo. Ogni volta una provincia faceva una scelta differente. E la ragione per cui in Italia nessuna regione ha deliberato le priorità. Tutti hanno fatto le letterine dei dirigenti. Se tu guardi nel dossier precedente dell'Avis o ci guardi a Del Rio, e io da Del Rio ci vado due volte alla settimana, che lo ritengo al pari del Ministero della Salute, i ministeri principali in questa fase della vita leggera la Polsese, devi dire che solo noi abbiamo mandato atti di organi collegiali. Gli altri hanno mandato le lettere dei dirigenti, per poter dire poi che quelle lettere non sono impegnative con la parte di cui noi. Noi abbiamo cristallizzato con dei libri di giunta e con atti che impegnano l'ordinamento regionale. Queste sono le nostre esigenze. Io, Ingegnere Carmani, un'ultima richiesta le devo fare. Dopo che ribadirò i soldi che ci dà Palazzo Chigi, perché regioni in transizione, nella misura dell'80-85%, sono 133 milioni di euro. E' un assegno in più che ci arriva da Palazzo Chigi. Devo dire, guadagnato questo assegno per un'intuizione di Legnini, quando presiede la sottosegretaria dell'economia, il CIP per le regioni in transizione. Ci tocca a lui 133 milioni di euro, circa 50 al Molise e circa 240 alla Sardegna. Di questi 133 milioni di euro, 100 li darei quale io vince. Ho detto prima, Presidente di Sabatino, che non li darei né per le assistenze tecniche, a qualsivoglia titolo si chiama, Silvio Paolucci è l'unico che è riuscito a far lavorare fruttosamente KPMG per la sanità, ma neanche se fosse KPMG, né le varie società di assistenza tecnica riguardanti i progetti comunità che hanno divorato fondi in tutto il centro-sud, né per le feste di compleanno che subitamente si fanno all'opera delle istituzioni. Molte volte. Molte volte. Li darei per la manutenzione di qualità che si fa sulla rete di aree provinciale, partendo dalle manutenzioni necessitate su alcune tratte di strade provinciali. Ci sono strade provinciali che ci derivano dall'ANES. Laddove noi avessimo l'intelligenza di restituire alcune tratte di strade provinciali, l'ANES ci dirà, me la dovete ridare come ve la siete presa. E' il minimo che ci possa dire. Lo stato di consistenza ce lo chiederà. Noi non siamo neanche nella condizione di incassare questo, se non facciamo questo lavoro così puntuale. E lo dobbiamo sapere fare. Dico alle province, il personale che avete è impegnato a fare le perizie. Le imprese, che c'è qualche impresa di qualità presente, lavorano anche quando c'è la crisi. E poi al lavoro svolto, la crisi viene superata perché trovano nuovi committenti, nuovo mercato. le province che hanno oggi poche risorse per l'imprecisione normativa e ordinamentale, fate lavorare gli apparati per fare le perizie con puntualità documentale, conoscendo esattamente dei uomini. Una volta avviso i lavori pubblici, accade che c'era crisi l'odio di una copertura finanziaria di San Giuliano di Luglia. Il livello di lontananza era tale che lo portarono a Donata San Giuliano, in Campania. Accade questo quando c'è l'odio per la conoscenza dei dati italiani e delle situazioni. Quando si ombi a fare il sopralluomo, perché il sopralluomo molte volte lo si fa solo se c'è l'impresa. Quando il sopralluomo è lontano dall'impresa non si fa. Se vogliamo essere chiari, ho fatto tre pitte su questo problema. L'altra emergenza che volevo segnalare, poi passo la parola presente a Romani, è questa bruttura giuridica che riguarda la vita degli spropri necessitati per far nascere la servizia. Su questo io l'ho parlato con Derrio. Fu la prima volta che Derrio mi disse vai da Romani e digli che io sono d'accordo. Perché Derrio secondo me non ha tolto dalla sua mente l'idea che quella strada possa domani essere sottoposta ad una qualche forma di responsabilizzazione fiscale, mettiamola così. Perché è una delle strade con il più alto tasso di unità. Ma la cosa assoluta quale sarebbe? Quella strada che oggi è usurale e quasi insufficiente per quanto riguarda la capienza attuale per soddisfare la domanda attuale di spostamento, oggi conservasse ancora per tanto tempo l'irrisoluto delle pratiche di strada. Lì ci sono 13 milioni di dipendenza riguardante un diritto certo che purtroppo l'allora soggetto appaltatore, il consorzio industriale sul che entrato alla Cassa nel mezzogiorno ma ci fu una immediatezza di sostitutività ritene di non affrontare con la dovuta costumatezza. Cioè si pensò che sarebbe passata poi la gendarmeria a pagare. Allora, la proprietà dovrebbe essere il seguito, la felice di tutti i debiti di Sant'Anna. La proprietà oggi si colloca in capo ad Anas. Io fui quello che lavorò per ricondurre ad un pezzettine del Consorzio di Bonifica, pezzettine del Comune di Pescara, pezzettine della Provincia in capo dello stesso soggetto che era appunto l'Anas. Venne qui misiti a validare con una commissione dei lavori pubblici che venne convocata nell'immediatezza finchè si vicesse che sia. Allora, ingegnere mani. Io so che ci sono dei contrari all'interno dell'Anas. Io mi auguro che lei abbia modo di, mi permette una confidenza, lei mi conoscerà sempre, tu mi conoscerai sempre di più, mi auguro che l'ufficio legale dell'Anas venga sottoposta ad un'opera di modernizzazione. Io l'ufficio legale della regione ho trovato delle sempie. A volte anche l'ufficio legale dell'Anas ci sono delle sempie che si innamorano delle posizioni precedentemente espresse. noi dobbiamo essere moderni e dobbiamo autorottamare i nostri comportamenti sbagliati. C'è un principio indiscutibile che la proprietà di quella infrastruttura si trascina il paliere degli omni di quella infrastruttura, tra l'altro con un numero francamente sostenibile. Se mi dice un direttore della regione che non può pagare 10 milioni di euro per risolvere il contenzioso di Chiaucci, io lo prendo a calci. Perché Chiaucci che non si completa è una vergogna nazionale. E se mi dice quel tale quattro collante che fa il direttore Consorzio di politica che non si può risolvere quel problema perché il numero è insostenibile è iniziata la risposta. Perché ci sono rapporti iniziali che non consentono questa storia di libertà. Ingegnere Armagnolo, io mi affido, diciamo, nell'interno di questa mia sottolineatura alla tua scrupolosità amministrativa, al fatto che tu l'hai subito rilevata come una questione che è oggettivo interessante. Sono convinto che c'è la soluzione. Noi vogliamo concorrere a trovare la soluzione. Paradossalmente il fatto che non sono pagati gli espronti dell'asse attrezzato lasciano quella infrastruttura, diciamo così, incapace di esprimere tutta la sua potenzialità. Perché quella infrastruttura può esprimere una straordinaria potenzialità. E' stato atteggiato il Consorzio Industriale di Pescara che rimane come un'isola giuridica a sé stante senza che possa confluire nell'aria in ragione del debito che si trascita. Io questa cosa devo risolvere. Arrivo a dire al tuo grande istante vittuale, dimmi qual è la quota, diciamo, di collaborazione che noi dobbiamo mettere in campo. Siamo pronti a fare anche concussione senza rilevanza penale sugli attuali titolari dei crediti affinché loro la comprimano ulteriormente. Perché c'è una saggezza in capo anche ai titolari dei crediti. però ecco, fare finta, come si è fatto purtroppo in passato nel Consorzio o nella regione o all'anas precedente, che il problema non c'è perché è di un altro, è un atteggiamento che non fa parte dello stile di governo dell'attuale classe dirigente nazionale. E io mi permetto di dire, per aver appreso tutto di te che mi sono informato molto, neanche del tuo stile di lavoro. Grazie Presidente. Sarò sicuramente all'altezza della tua oratoria, ma cerchiamo di dare delle risposte, più che altro è un indirizzo di come provare a risolvere i problemi. Prima di tutto, una considerazione generale. Sono arrivato recentemente all'anas e ho trovato una situazione di programmazione infrastrutturale abbastanza critica per un ritardo sicuramente per la montezione delle infrastrutture. È molto importante sulla rete ANAS, ancora di più sulla rete provinciale, quindi un collasso complessivo, progressivo delle infrastrutture di aria nel paese che va recuperato, va recuperato cambiando l'approccio e soprattutto valorizzando e investendo sul nostro patrimonio di aria, perché essendo un paese largamente sviluppato, la necessità di nuove infrastrutture è sempre molto inferiore rispetto a quella che risiede nel mantenimento e nel potenziamento delle infrastrutture esistenti. Quello che ho trovato sono progetti identi. Buona parte di quelli che hai citato sono progetti che sono nati negli anni 90, negli anni 80 e che non sono stati completati, sono stati abbandonati, parzialmente magari realizzati, ancora peggio, quindi con investimenti fatti e non completati. E su questo bisogna tornare a ragionare, riprendere in mano i progetti, le direttrici parzialmente realizzate e non completate e sfruttare e dare l'opportunità anche a queste direttrici di effettivamente un aumento di produttività. L'aumento di produttività è fondamentale nella pianificazione e nella identificazione delle priorità e per questo dobbiamo mettere a farolino a valutare ogni progetto in termini di costi e benefici. Anche perché la viabilità consente non solo di ridurre il tempo di spostamento da A a B e quindi aumentare la produttività della persona o delle persone che sono ferme in auto invece di essere arrivata a destinazione, ma anche consente di efficientare la rete di servizi che viene resa disponibile e che è necessario distribuire sul territorio. Si citava il servizio sanitario. Creare nuclei sanitari più ampi consente di aumentare l'efficienza e l'efficacia dei gruppi sanitari. Per poterli avere concentrati però bisogna poterci arrivare velocemente da una zona all'altra, altrimenti diciamo di fronte a un'emergenza non si arriva in tempo e non si può dare questo tipo di risposta. Lo stesso per l'istruzione, per gli aeroporti, per i porti. Non avere infrastrutture efficienti di collegamento tra un posto e l'altro impone la distribuzione e la moltiplicazione di investimenti piccoli non all'altezza della competizione a livello internazionale. E quindi ci troviamo ad avere oltre 100 rapporti in Italia, ognuno diciamo non all'altezza di ricevere gli aerei che dovrebbero arrivare, infrastrutture con quali nessuna di queste all'altezza di qualunque competitor a livello europeo. E lo stesso si dice per le infrastrutture di vari servizi. Avere e quindi recuperare una priorità di dove investire è fondamentale. E su questo la pianificazione è il primo elemento. Quindi in questo senso oggi poniamo un passaggio importante, quello di tornare sul territorio a recuperare le esigenze magari stratificate da molto tempo, rianalizzarle, rimetterle sul tavolo, tirare fuori i progetti dalle scrivanie, valutarli e poi proporgli per i finanziamenti. L'altro elemento è la certezza di finanziamento. Non si può avere un progetto di rifacimento infrastrutturale che magari implica un miliardo o due miliardi di euro di investimenti, quindi 4, 5, 6, 10 anni di lavori e avere un solo anno finanziato. Questo rigenera gli stessi problemi che riscontriamo oggi. Si fa l'investimento per un anno, si appalta un lotto e poi gli altri 5, 10 lotti non verranno mai più appaltati perché a quel punto la priorità è un altro territorio, perché è cambiata la politica, perché adesso c'è quell'altro politico più influente. Allora non si può programmare il paese così. Bisogna programmare il paese sulla base delle esigenze del paese e non sulla base del vento politico. Cambia giustamente perché la democrazia deve cambiare velocemente il vento politico a seconda dell'efficacia dei politici. Fa parte della democrazia e che siamo contenti. Però le priorità dei cittadini rimangono perché nessuno si trasferisce in massa da Chiedi a Roma o a Gona, ma le esigenze rimangono. Quindi la pianificazione di infrastrutture è importante a farlo al governo. In questo senso, parto dall'ultimo, l'intermodalità è una priorità del governo, su cui noi abbiamo l'obbligo di investire e diventa una priorità assoluta del paese. Servire e arrivare a raggiungere i porti del nostro paese con strade adeguate, i siti industriali con strade adeguate per racconnettere i porti, queste sono le priorità fondamentali su cui il piano di viabilità deve essere fatto. E quindi la valutazione è diventata una priorità e giustamente è stata inserita dal governo nelle priorità di governo. su questa noi siamo andati avanti e probabilmente l'opera è in programmazione più avanti nella valutazione. La conferenza dei servizi, grazie al contributo della Regione, sembra essere chiusa dal punto di vista dei pareri. Poi purtroppo i pareri ottenuti a un torto collo dalle sovraipendenze, io nel mio via precedente elettrica ne ho visti in due, rischio di non reggere la funzione di Stato perché ci sono dei funzionari pubblici che mettono le pillole avvelenate dentro le carte che scrivono. E quindi bisogna vedere esattamente perché decreti autorizzativi con 20.000 firme vengono annullati per carenza di motivazioni e quindi vanno scritti e controllati molto molto bene. E quindi su quello poi è una chiara indicazione già di avvio di processo. L'altra priorità partendo dal basso è chiaramente il prolungamento dell'asse attenziale. Questo si porta ovviamente alla necessità di progetti da implementare e la necessità di risolvere il contenzioso esistente. Per questo io, essendo appena arrivato, ho anche assunto un sacco di ruoli. Sono direttore reale sui esterni istituzionali, sono anche direttore legale e societario. Questo implica non avendo assolutamente le competenze che arriverà a breve un responsabile che mi aiuterà che non viene dal settore completamente a uso da qualsiasi incrustazione o definizione del passato. Perché qua il tema è chiaro. Se Adas è definitivamente proprietario dell'asset non può che non prendersi carico della base della proprietà, così come stiamo facendo su tutte le strade. Ovviamente non c'è dubbio che la via i romani avessero fatto gli esplopri. Però c'è una storia di strade dell'ANAS dove alcune aziende, quando veniva delegata la capacità di esploprio, di fatto, magari per dissesto, successivo, eccetera, non chiudevano il processo di esplopriazione delle strade. E questo è il dubbio che chi sia proprietario deve sanare la storia dell'asset precedente. Chiaramente questa cosa non può essere fatta per interposta persona, deve essere fatta direttamente. studiamo, diciamo, le basi giuridiche del caso, insieme alla regione che magari ci aiuterà a risolvere. Perché poi non c'è solo l'imbarazzo di aver detto una cosa diversa o di non aver risolto. C'è anche la necessità di risolvere un problema. E risolvere un problema nella pubblica di registrazione non è mai facile. E quindi bisogna costruire una strada per risolverlo. e su questo noi ci prendiamo l'impegno di trovare una strada insieme alla regione per risolvere. Dall'altra, diciamo, l'asse attrezzato di Pescara è una strada in assoluto con maggiore TGM di intensità di traffico sulla rete nostra in regione. l'altra, la seconda, è quella di Teramo Mare. Teramo Mare è, ovviamente, una priorità. È un'opera che è stata programmata nel contratto di programma 2017. il processo, la soggettività via, verrà avviata da parte della provincia di Teramo. Ovviamente puntiamo a avere un progetto che sia poi un bel progetto e quindi che abbia tutti i procedimenti autorizzati ai fatti. Qua il problema è avere certezza di fondi. La programmazione del 2017 vuol dire che, avendo finanziato solo il 2015 ufficialmente, il 2017 vuol dire entrare nel sistema di pianificazione degli investimenti complessi dello Stato. Su questo c'è una norma complessiva sugli investimenti ANAS che stiamo provando a inserire in legge di stabilità che dovrebbe dare certezza di finanziamenti ad ANAS nel tempo. Istituendo una tariffa stradale, questo dovrebbe consentire alla programmazione, data una programmazione condivisa con tutti i soggetti, consentire all'azienda autonomamente di avere i fondi per poter finanziare le infrastrutture. Questo modello esiste in tutte le altre comuni in Italia, quindi sull'acqua, il gas e le pubblicità. E non si capisce perché non debba esistere sulle strade. Questo, diciamo, se questo problema viene risolto con questa legge di stabilità, allora la programmazione che noi stabiliamo e abbiamo stabilito già come priorità anche nel 2017 avrà certezze di finanziamento. Vengo invece al tema della 16, la triatica, dove ovviamente si concentra il traffico in particolare nei periodi estivi. Chiaramente questa viabilità ha un problema di passaggio all'interno delle zone abitate, aree densissimamente abitate su cui ovviamente le problemi di sicurezza si generano, in generale anche problemi di convivenza tra strade ad alta densità di traffico e l'urbanizzazione. Qui il problema è identificare, per questo dobbiamo lavorare con la Regione, con i comuni e con il locale in generale, è identificare soluzioni che siano sostenibili da questa economia finanziaria. Siamo in zone altamente urbanizzate in cui le soluzioni possono essere estremamente costose. Indirizzare soluzioni troppo costose, essere troppo attenziosi spesso porta a non fare nulla. Sommando la somma dei progetti preliminari di queste tre varianti significative si arriva a superare 850 milioni di euro. È chiaro che una piccola autostrada è difficilmente finanziabile su progetti di questo tipo. Bisogna trovare soluzioni intelligenti che solo con il territorio si possono fare, che siano anche praticamente realizzabili. Questo è, diciamo, l'obiettivo del territorio. E non fare un mattoncino alla porta è il presupposto per fare tutte le mie difficili. Questo deve essere l'obiettivo, deve essere tutto un progetto sostenibile. Sennò si innescano quei progetti in cui la gente dice ma non finisce mai. Qua quando è che si finisce? Hanno fatto fino a qua perché non hanno fatto oltre. Non hanno senso, noi dobbiamo dare una risposta. Una risposta che la gente la vede nell'arco della propria vita. Andando sulla lista originaria che qua ho perso. Sulla pede montana, quindi dalla parte di Guardia Grele fino alla Val di Sangro, lì sono progetti largamente che acquisiamo dagli atti locali su cui, diciamo, c'è da recuperare lavoro fatto. Vale lo stesso discorso fatto per le varianti della triatica. Complessivamente siamo in ordine di grandezza inferiore di investimento. Però, diciamo, ragionare su tutta la direttrice rende le direttrici utilizzabili. Oggi ho percorso il tratto di strada dall'Aquila a Bussi di nostra proprietà. Una strada in alcuni pezzi scorrevolissima, bellissima. Altri pezzi non si comprende perché non sono stati finalizzati. È ovvio che la fine del lotto determina la fine della qualità del servizio. Allora noi dobbiamo puntare a che i lotti comprendano tutta quanta la direttrice in ogni intervento che facciamo. Per quanto riguarda bene, abbiamo qua, diciamo, il nostro socio con cui lavoriamo da anni ormai al Fermi, diciamo, particolarmente attivi sull'iniziativa. L'interessamento della giustizia, ovviamente, è imposto uno stop all'iniziativa. L'esigenza è rimasta. All'esigenza bisogna dare una risposta. È chiaro che la presenza di aree a pregio ambientale e, diciamo, ovviamente, la disponibilità delle istituzioni a presidio di queste risorse a fare il progetto originario obbligano a ripensare il progetto complesso. Questo verrà fatto credo a breve, perché, diciamo, dovrebbe risolversi a breve la vicenda giudiziaria, prima risolvendo in qualche modo il contenzioso o comunque la sospensione dei lavori che è rimasta bloccata al 31% di avanzamento. Quindi, diciamo, ha sicuramente un investimento che è stato fatto sul terreno. Questo investimento sul terreno deve essere messo in sicurezza e completato, in qualche modo poi rilasciando fondi che poi possono andare a una riprogettazione del complesso dell'opera stessa. Anche questo deve essere fatto con un'ottica di, magari meno ambiziosa, ma di ripristino e di manutenzione di tutta l'infiltrice, perché la strada esiste, magari andando a intervenire puntualmente sui punti neri, come vengono chiamati, punti di maggiore incidentalità, perché quelli dobbiamo risolverli dopo per mandato strategico. L'obiettivo del tavolo è proprio quello di non lasciare questi cantieri bloccati ancora, ma di dare una risposta, darla in tempi brevi, in una risposta realistica e che dia un servizio in tempo. Fare quattro corsie per spostare la fila di cinque chilometri avanti non serve a nessuno. Non serve a nessuno, non serve a nessuno. Noi dobbiamo risolvere i problemi, dire che la salerno regionale è finita, vi invito tutti quanti a farlo per altro, ecco. perché i progetti si possono finire, le opere si possono completare e si può dare una risposta utile e tipitosa a ogni territorio. Chiaramente bisogna scegliere la risposta giusta dall'inizio, se no non si può dare la risposta giusta. Io credo che il tavolo che istituiamo oggi, che poi vi vedrà coinvolti nella discussione delle soluzioni, si ha una buona risposta per dare in tempi brevi e riassettare la pianificazione, che ovviamente non parte da zero, ci sono progetti, ci sono soluzioni e quant'altro, ma riportare le soluzioni in discussione e ripartire con certezza, senza telegrammi, che cambiano le idee di corso d'opera e garantendo le finanziamenti certi a loro termine. Ingegnere, il nostro lavoro è di mancanza, di mancanza, di mancanza, di mancanza, di mancanza, di mancanza. L'allungamento della soluzione è di mancanza. Sì, quello è il primo tema. Scusami. Mi sono... Mi sono... Mi sono... Mi sono... Mi sono il grosso mare. Quasi aquilano. La priorità che ci ha dato il Governo, la priorità che ci dà il Ministro, è quello dell'intermodalità. Cioè il rendere accessibili le infrastrutture logistiche che sono presenti nei paesi. Per cui abbiamo ripreso il progetto Civitavecchia Orte Nestre, che era costruito ideale negli anni 70 e mollato lì. È stato ripreso dal Ministro direttamente e rimesso in giro. Il porto di Pescara è il principale porto della regione. Uno dei principali porti dell'Adriatico. E quindi è giusto che abbia accesso direttamente e non debba passare per chi succede al centro per poi arrivare alla viabilità. Allora, questi sono... Nel trovare soluzione all'allungamento dobbiamo anche risolvere il problema che costa in mezzo. Prima di salutarci due attivazioni. Tanto un grande grazie all'ingegnere Armani, del quale ho soltanto un pentimento che non posso lavorare in ANAS con questo vertice perché la legge mi obbliga a stare aspettativa. Mi farebbe proprio piacere lavorare con una idea di infrastrutture di questo tipo. Sapendo che l'ANAS ha avuto almeno quattro stagioni in precedenza. La stagione dello Stato, dell'azienda statale, quando le circolari e le procedure prevalevano per la realizzazione. Io ho conosciuto la Cercello Donna, era terribile, era terribile. Con il suo gioco di carte riuscì, nel miracolo, di abbattare la stessa ombra dove hai preso. Cosa micidiale. Qualcuno, se ne sono accorti, fecero nascere una commissione la quale mise tre anni per trovare la via di uscita che poi era francamente immaginabile senza provarci. Qualcuno qui sa chi sarà la dottoressa Cercello, più anziani, più adulti. Poi c'è stata la gestione commissaria di D'Angiolino, un galantuomo, ipercorretto, ma solipsista. Direbbe amato, come dicevo stamattina. Ha cominciato la trasformazione dell'ANIS, poi però, come tutte le cose, accadere tra loggianesi dei fili. Io gli sono molto riconoscente, un po' gigante. Ero presidente della provincia, riversò 900 miliardi di vecchi lire in provincia di Pescara. di lavoro. Poi c'è stata la stagione di quel, come l'ho chiamato stamattina, di quel progettista improbabile che ha fatto presente l'ANIS, l'ingegnere, come si chiamava lì? Pozza. Lui doveva arrivare a un progettista, per quanto riguarda l'esterno. Poi c'è stato il dottor Ciucci, che ha portato una procedimentalizzazione di tipo nuovo in ANIS. Però aveva un problema, che odiava l'altro da sempre. Cacciari, l'avrebbe detto così, abballa l'altro da sempre. Finalmente abbiamo una persona che, diciamo, non è in conflitto con il mondo e esibisce quello che ha fatto con successo anche nella vita precedente, breve ma non esistente. Io ne ho sento parlato molto bene dall'attuale numero uno di Terna e da un galantuomo che, per conto di Terna, sta facendo bene l'annuncio oggi ed è l'ingegnere, come si chiama? Conti. 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 Di qui a 7-8 giorni viene a firmare l'accordo finanziato per l'ultimo miglio ferroviario per l'importo di Vasto. Secondo dato, che è arrivato adesso qualcuno in più del Terraman, molto il Presidente della Provincia, noi abbiamo un gradito riottoso consigliere regionale che mi ha posto questa volta a ragione, accanto ad altri, il problema dei comuni della Valfino. La Valfino è una zona terminale, una specie di imbutto del confine Terraman con Pescara, della zona destina. Lì si è accumulato il di più di distruzione dell'acqua che è scesa il 5-6 di marzo, non ci sono più frequentabilità di quegli asserviati. Quel livello di danno si è verificato nella Valfino e nell'Alto Vastese. Noi abbiamo avuto lo stato d'emergenza e per la prima volta lo stato d'emergenza ci è stato dato in 45 giorni e va a merito di Renzi, della protezione civile di Gabrielli e di quei uomini che stanno nel segretariato di Palazzo Vigio. Certo, ci hanno dato a prendermi i nomini, non erano sufficienti. Adesso ci mettiamo noi soldi a altri in più, vi prego però, comuni, locali e province aiutatevi a fare carico. Io mi ricordo Gaspari che disse che quando lui cominciò a fare politica e andava in giro del chiedino con la rispetta, veniva chiamato Provediore agli studi perché l'unica figura che girava era Provediore agli studi che andava raccattando ragazzini dispersi. Lui però mi diceva che c'era uno spirito collaborativo tra i comuni, la provincia e le realtà territoriali a vario titolo salvaguardanti il territorio, che collaboravano, che non sagomavano la differenza delle competenze. È possibile fare in un tempo di banche magre per gli enti locali quel lavoro di uncinetto conoscitivo dei problemi del territorio? Ecco, io questo è quello che vi chiedo, non avete i soldi perché lo sappiamo, ma fate lavorare gli uffici tecnici, ci sono alcuni geometri di alcuni comuni, per esempio ci sta un architetto a Cepagatti che secondo me può aprire un corso di formazione per tanto personale pubblico perché sa tutto come si fanno le poste. Quello lì non va nello chiuso dentro quelle stanze, va goduto per fare in modo che le procedure facciano passi avanti. Dico quello lì, ma ce ne sono tanti altri. C'è Luigi la Civica, che è quello che rompe lo scadere per il punto nascita di Sumone, che è bravissimo. Ora rivisodono, rivisodono, è uno dei comuni più evoluti. Grazie a questo Luigi la Civica. Facciamolo lavorare anche altrove, è un dipendente comunale. Con questo spirito dico ai sindaci dei piccoli paesi e dico alla provincia, combinatemi. E Eugenio Peggio, partito comunista nel 1949, fece una circolare. Scaglionatemi, azzeccando le vocali, scaglionatemi e collaboratemi. Dategli da fare per fare queste esperienze, che noi a giorni vi facciamo una comunicazione che vale come competenza, e con la competenza si può fare la gara, per fare in modo che nasca l'indirizzazione delle imprese. Io mi vergogno, e ho un sentimento di cui posso disporre, quando vado in quelle due realtà, ma 16 anni fa, anziché comprare i concerti, le province, anziché fare quella concentrazione inutile su tutte le politiche altre rispetto alle infrastrutture. Noi oggi non avremmo la condizione distruttiva che c'è adesso, e da morire questo lo sa che cosa. Noi oggi paghiamo 10 anni di disinteresse su questo fronte di atto, perché sembrava che la manutenzione non desse notorietà, sembrava che la manutenzione non venisse resa inaugurabile. Invece il manutenere a Berdini e a Milano ci ha fatto due volte il sindaco facendo la manutenzione. Con la manutenzione secondo me si passa l'esame di Stato. Grazie ingegnere. Grazie mille. Grazie mille.